Ma che è straccio di merda? No Perché è quello? Eh, Manuèle è troppo debole Mamma Mob G è vero e Manuèle è debole Non lo dico in queste case qua Munga ragà Mob G è un nabo Se non lo volete sapere Si è forte di Manuèle però Manuèle è un nabo Ma che cos'è? C'è Mob G è un nabo Manuèle è il nabo Porca puttana No dai Chi è? Manuè Manuè Io mi vieni d'altro lato Oh ragà questo si chiama Pezzuzuei Laco Go do go do Io qui Io qui No no sentimi Ma che? Ma da quando? Io qui No 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 Il nonno è mio Ma c'è pure il fortino Ma non era Ma non era Non c'era lato lato qua su Ma non è Non c'era lato 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 Ma ma era il quittà No no ma so No ma facciamo due Me nace il problema Guarda Colpa di chi? Dai Vabbiamo Il porco duro Non è Non c'era lato Non c'era lato Cosa? Il rist Tutte il rist A me Vieni Ma non c'era lato Non ci voglio Vieni 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 Non sono lato Non sono lato Non sono lato Non sono lato ok ahahahahah ahahahahahahah ma non me lo te ne vada d'acqua qua vieni a bovino no aspetta un minuto qua di sotto porco tino oh stai zitto tu sei la persona più nabba del mondo oh ah 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 oh ah 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 non mi facciano le cure ma non è ma sono rimasto tra di città ma non è illegale non mi cure cure creale ma non è creale le cure creale creale ma non è creati le cure ma non è creale come è l'alco cure madonna ma non è una cosa ma non è una cosa ma non c'è uno l'alco si quel fisico l'ho pillato non è paura perché non vado non c'è uno ma non è mamma guarda la mia vita non c'è una cosa non c'è uno ma non c'è un ciclo ma non non è Eooo Ehhh Ehhhh Ma non ti metta Ma non hai Grazie a tutti. 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 James. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. , , , , , , , , , ora posso messi qua andi e se hai scopo qui e te lo vengono Uffì Ma devo voler aspettare che sto prendendo teaming con uno No 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 E' un po' di nuovo. E' una cosa? E' una cosa? E' una cosa? E' un po' il gioco? E' un po' il zob! Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. 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 ti rompi veramente un uracino mazza mazza vado a scacca metti pubblico di capa no mazza 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 mi fa schia fale che mi fa rito non riesco a far respirare giuseppe non mi fai entrare роль sono digappato metti pubblico ma che hai messo pubblico non mi fai entrare ma ne sei debole non mi fai entrare non hai messo pubblico ma ne sei debole ma ne hai non mi ferma niente non è non è se devo fermo fermo tu mi hai dato mi Rosso fermo Paolo, non metti gradiva, mettiamo i moletti Eh, come stai scontando la schede? Non metti gradiva! Siii Ah, è buono già! Non è così, non è così Non è così, non è così Non è così, non è così, non è così Non è così, non è così Non è così, non è così Tu dire il che? Ma ne si debole c'ha No, non è questo No Ma ne si debole Ma ne si debole No, non è così Ma ne si debole 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 E' meglio di scegliere il bravo, io ne ho amato. Ma l'entra? No, metti creativa. Sì, metti creativa. Guarda, mi fa sbagliare. No, metti fuori il mio, che siamo altri. Non mi dà paura. Non mi dà molto. Metti fuori il mio, che è giusto. Non ti credo. No, non mi dà paura. Ma... No, facciamo un po' che credi. Contra me? No, Giuseppe, sempre lì, non vedi. Fai un po' che vi tolte, che è il canale di me. Fai un po', facciamo un po' che crede per il scaldamento. Ma noi levo, che dopo scondiamo tutto, ok? No. Sì. Bisogna il mio giro. Cazzo di merda! Non so, è strano. Goda, Goda. Ma so, non mi dà chi. Non so, non mi dà chi. Goda, non so, non mi dà chi. Ora, angli. Oh. E gai. Oh. Goda, ti guarda. Sì. Cazzo di merda. Il sguigno, hai in bocca. Vai. No. Cazzo di merda. Chi? 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 Allora metti via E' Kevin No, Kea Vai, vai, giochiamo C'è un 2v2, facciamo 2v2 Io e Paolo Io e Peppa Ok Non è vero, non è vero 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 Fermo, dai Ingoia Ingoia Un po' 18 No Oh, che mi piace Non è vero Renato Non è vero Ah, via, mi metto da qua Aia 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 102 di pino Ma non ricordo Vai 100 di pino Eeeh, si vuole a meno Quale a meno Ma ora vi passo, vi passo Ragazzi, mi capo il Peppa, il Peppa fa 0 di pino 70 ma a me seriamente cioè in realtà il reneghi non mi piace io non ho l'enato squadra 2 io la prendi ricordamente io l'ho visto sai aiutami io non è così forte ma è scatto no 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 non c'è ma puoi cagare mi sono tornato di merito mi sono tornato di merito chiaro c'è non ci capite niente la getta poi non c'è il mio gioco e poi mi la batte duci niente oh maldita ti faccia con me maldita la devi prendere con il manuele io sono venuto a dire che Manuele sta mandando da Giuseppe l'ho visto proprio ci ha fatto duci niente ma non c'è il mio gioco ma non c'è il mio gioco eh maldita la paura di riusciarnevi e mi hai sempre綏ci il dir come a no guardalo 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 oh oh attendo perchè chiudi manoe dopo da dietro dobbiamo uscire non chiudere ma usi sto levando più 30 che tutti colpi del mondo pingi 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 ma sono tutti da me ma così con i capi di trelleri sto facendo non c'erano domande guarda ma che mi chiedi dietro sempre Emanuele, mi ha bloccato, sono morto ma con Emanuele che luce ma sono rimane ma non 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 dovete piangere se non c'è da parte ma non è la scena logica, quello brinca ma dov'è? ragazzi non vi lamentate che perdete perché ricordatevi che sto io che vi spolvo quindi non piangere è normale e potete perdere ma cacchi città ah lo devo scolpare e mi chiude vabbè aia 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 c'è un decine di siena qua spolpatevi amare e cacca aia 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 bravo ma come cacchio te l'ho fatto poi non lo manco io cioè ho sparato attraverso la nuova, mi faccio sempre ma così ha 1040 di vita, usci là non è niente mio cacchio, c'era la nostra parte di bot no, questa è la bot no, no, ti puoi fare no, li ho fatto con skip eh, boh, accendo l'handri così di bene no, no 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 to no to to E' un'altra scala E' un'altra scala Non c'era una scala C'è un po' di potenza C'è un box ed il lead E' un po' di potenza Eh no 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 Ah non c'è da dove E' un po' di potenza E' un po' di potenza E' un po' di potenza E' il basso, francese! E' il giro, già! Vengo a passare! Allora... Allora vedi vita! E... Io lo faccio anche qui! Eh! Vedi vita! No, ma c'è da dove, fratù? Ah! Eh, avveni brutta dove mi piglia! Perché c'è una morosa! Ma guarda a me che sto prendendo! Ma a me non ha prende nulla! Se la prende a me! Ma io sto prendendo, a te! No, non c'è un'azienda! Eh, ma... E' un'azienda di attività! Eh! minchia di uno del culo e poi tu mi dà dietro le cose aiuto eh che cavolo scusate sono morto Peppe mannaggia te però muori sempre tu Peppe capito che stai contro Mobzy ma non è che ti smontri guarda i trappogli grazie buona Peppe tu non devi muori da Mobzy che è un bot perché muori? Mobzy pure scarso Mobzy è scarso con Mobzy è pure scarso l'inbox perché non muori? non sono scarso, sono comunque più forte di manuele Mobzy ma non è veramente la chiede ma non venimici a me ognuno di scuola si deve fare sono così come te in Mobzy guarda nooo per quattro si distanziamo per quattro si distanziamo per quattro si distanziamo ma non ci fammi parlare sono cento volte più forti di dei boss e in build però no in build pure disfaccia un po' in build pure disfaccia un po' ma non lo so da quattro si è in build un'altra della della andata non ho busciato lì cosa c'è quella lì ma quello mi fa scocendomi qua che ho fatto di giugno di giugno? eh vieni a me perchè vai da lui vieni qua vieni dai no 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 dai dai cioè io ci so prendevo che era full vita prima con 30 di vita cosa era full vita? avevo un botto di vita prima in confronto a me che io ma grazie non c'entrava un hit non c'entrava Ma quando è che mi fai chiedere qui? Eh appunto, 30 li facevo, 30 li facevo. Eh, non mi, eh, poi non mi scavi. Cosa non ti scavi? Tu mi prendevi da dietro le scale, lo vedeva pure Manuela. Mettevo le scale e mi prendevi lo stesso. Diavolo, poi non è vero, c'è di tavola. No, erano mie le cose, io di tavola non erano tue. Io di tavola mi prendevi lo stesso. Me ne prendevo le cose. No, non ti, allora, capi cosa facevo io? Io editavo, poi di tavola non mi prendevo, mi prendevo lo stesso, a miseria, c'è di tavola. Cosa ti ridi che ti stai? A me è franchiesco, vi apri, non mi prendi, non mi prendi, no, e apri questi gambe. Eh no, ma tu mi ti arrivi, non c'è me. Allora, c'è giù, l'uso e poco, c'è già fa. Siamo contenti da me, venite. Siamo contenti da me, venite. Siamo contenti da me. Che culo, che culo, che culo. Che bianca, che bianca. Io sono scarsa. A me non mi ha sparato da bomba, che mi ha salto giù per me. Sarei limo da per ieri, a per ieri, a per ieri. No. Ah ma è basso molto. Molto. No io ho non grado, e hai fatto 90. Amor! Amor, che c'ho fatto 90, che c'è esta. E non mi piace la mia quantitiesa ora per ieri. Allora è lo curito. carina scala ho già dovuto fare il tuo preso a te ne che spara a casa di video puoi sparare a casa e mi pigliate perché devo andare a siti da voler e le parti di video che andrò tornando 40 no che cazzo a uno di vita a uno di vita che cazzo cosa balla se la crede che è il più scasso del team guarda che è entrare che video ti batte mo ma no ma già ti vissi di culo te c'è giurato 33 40 c'è c'è ma vai scolta no vai fallo di da la qualità se veniva dai un po sei paura sei paura dei tempi d'oro sei paura dei tempi d'oro no sei paura sei paura sei paura sei paura sei paura mongrath chi sei? si sono mongrath il gru e tu sei il vero sei il vero tu sei il vero Gula E' un giro femminile Leve un uve Giu'a scelto la scuola beppe la piccola piccola perché non è più 17 di vita dai rianna per gli anima ma donna beppe però ma si può no ma non è vero ma piccola che doveva una indietro di aiuto delle 4 minuti lo può del corpo vuol dire che la buona lei seguì l'appunto lo chiudo i metti un'intorno di queste cuorini sta dentro gli abbandonati sì perché non ha un po' più bene domanda domanda no ma è una piccola di domitare anche quello che stai prendo pure di bomba guarda a me si tocca il gioco che cazzo è una presa ma preso mi porto di gare non rimane cazzo 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 manuè tu tieni solamente la mira se prende il gioco solamente così spondi cazzo 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 ma nella vostra gesto pure a profondi che si scaghi ma le teatro guarda guarda non ammette la scala si bagga tutti i posti gioco del cazzo via lì tutta la lì già venire e dai non ce la faccio più porco dio prendi Nabbo Nabbo cazzo te l'abbiamo se la bella così ah eh che va di giochi ah sembra un corpo di so di bomba che cazzo tu mi fai dicermi fare le bomba io ti faccio 30 mi fai ma che tu scendo il giusto? tu scendo il giusto? si cazzo oh mamma ma stiglio che me non ho capito che faccia anche il 49 ah 30 più 40, 70 guarda 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 18 18 è ciò che di merda vorrei qua ya viene a pushar una volta non c'è la faccia più ti faccio cento in edizio no da che cazzo disney porco due dio guarda non mi vede mai a pushar una piccola di 18 ma è mai sopra mai sopra risposta la mano si viene a pushar un top buona non mi acherischi no lo vengo a rinnelli è inutile questo asciutto è che c'e quindi un buon biel fuori a pushar una mano fuori a pushar avviene sarti una pusha ma il coso gli mette a scala su un'unico stia non viene a pushar tu ce ne fai ma che cazzo dammelo poi a me ti tiro per il culo tu l'hai con il culo oh la prima volta è morto eh eh la prima volta tu hai tutti i 300 800 qua ci siamo tutti i 4 piccoli NACO guarda tutti dai a vettor fai a pushar i fai a pushar i vai a pushar i no l'ho descortato tu guarda tutto il che spammone che spammone ma non mi vi ma non ce la puttana porco dio porco cazzo dio porco hai visto ma quale non vi è dai 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 ai dai ecco è tuo è tu a tu ci sono non è da non non 1 2 3 2 un sacco No, 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 no. No, 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 no ah comunque lo becissi è stasso oggi si ma ho capito di chi lo vuole a te non so ma che cazzo ma del zobato io lo trovavo in mezzanito il zobato non è ritato ma che cazzo 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 non mi spara ma niente ma cazzo non risalto ok cazzo ma che cazzo ma che cazzo o un altro a razza non è ancora no ma che cazzo 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 che cazzo che cazzo Ehi, aspetta, sto prendendo spese e metterò in buca. E dai, bro. E dai, Francesco. Ehi, aspetta, sto prendendo spese e metterò in buca. Ehi, aspetta, sto prendendo spese e metterò in buca. Ehi, aspetta, sto prendendo spese e metterò in buca. Un'evida, un'evida, eh sembra un'evida, ma potevo riuscire a piccone Io l'ho fatto piccone, però davvero non l'ho fatto a piccone perché mi stavo uccidendo Ma state zitto che ho già dato a piccone Ma state zitto che ho già dato a piccone Ma state zitto che ho già dato a piccone Oh comunque fai questo, pure a Freddo, saluta a Freddo Oh, adesso salutami a Freddo Oh, che cazzo 200 Cazzo 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 Sì, perciò Un'escaz Stanno mangiando scritto Guarda E ora cazzo Adesso, qua Ed è indietro questo tornuto però ma ti fa ingazzare questo? dai aspetta non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito oh no e dai va i gio qualcuno è privilegiato fítulo 2 E dai ho finito materiali Nooo Oh ma ma comunque mi ha dato il gosit, ma un gazzaro L'ho preso in adesso e mi ha dato il gosit Vabbè Tutto si fai che c'è Benezza, 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 benezza o che mi spari dai non mi spari da te ok me lo buscio io fermo no 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 io me lo buscio se sei morto killami se sei morto killami vai questo è vero ma me lo buscio a me ok ga non non basta ! non basta non basta ora mi fai resta vai adesso perchè dove mi spara il pompa sto tre ore fermo provaci provaci ma il tuo account sta con il tuo account 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 a me è meglio si si stai zitta stai zitta mi fai due senta a culo e non mi spara cosa sto tre ore fermo così e così non mi spara un gatto non mi fai così non mi fai così non so tanto che ti hai lanciato con il tuo ah? ti hai lanciato con il tuo non lo so non mi fai così si ti ho detto, non ho non mi fai uguale non ho previstato non ho appassi io ho bisogno di viaggiare oh, piccone, piccone, picco picco, picco è il tuo, piccone, veni qua qua veni dalla mia bopse oggi non mi spara dai che ci sono di vita come fatto tu o giuseppe? io pure ti devi andare a saluto però giuseppe è da dietro non pure tu ora vattene e te lo accendo te lo accendo te lo accendo te lo accendo dai, tu guardate te fai il gesto adesso ti ami qua no no tu mi devi mi pusciare vediamo senza finire vabbè se no facciamo io e peppe quando andremo a andare per i dati giusto sto la game bro nooo la vai vai che c'è? che c'è? che c'è? una ripetizione una pesata me la fai un po' me la fai un po' e ma noi ti devo buttare una cosa che fa qua ma io ti devo buttare una cosa vanno a raga e ora salti fermo dammi i cilindri una busseria nulla uno è il sport bo dammi il pesco Questo è Camberi, ma non vuoi me la vuoi indipendere, sai? Dammi il peso. Aspetta. Aspetta, c'è una giocic, vai. Eh, sì, sì, è buona. No, per me c'è, no. Non volevo un role, ma io stasera spolpo di meno. Sono più scarso da mostrare. Però devi venire nella porta. Può venire pure nel Jessica, però devi venire. No, non mi piace il Jessica, è più scarso. Però sembra il mio Giuseppe. Sembra il mio prima Frankster, ha detto. No, Giuseppe. Sembra il maiotto, o sempre prima tu, ha detto. No, vai bene la prima. Vai bene? Già faccio. Go! Le va dai! 60 di pin. 40 di pin. Beh, guarda, ti faccio, beh. No. Ah, guarda che stai scendendo. Stai scendendo. Stai scendendo. Stai scendendo. Stai scendendo. Stai scendendo. Quelli, ma non ne vuole uccidere a me, no? Non puoi uccidere, perché la Bobbune è meno. Va, fa. Non schiaffo, sono forte, guarda. Vai, ok. Tu fa. No, no, non ho, no. Oh, ci si deve fianco a me. Ok, vado io. Non è vero, stai scendendo. Vado io? Vai, io vado da dietro. Vai, io vado da dietro. E qui amore. Oh, però ti dovevi andare, io frangerei Tu Ti dovevi andare, io frangerei Io stavo con i fatti miei Oh, la passata vado io No, io stavo con i fatti miei No, ma hai fatto una cosa, no, non mi entro da lì di merda Oh, oh, Francesco Non c'è Oh, ma che vuoi, c'è Oh, ma io stavo con i fatti miei Sti, io anche se non sono quei musici Sai, eppure io Ok, ma andiamo dentro a questo avvertimento L'acqua, dai, te lo stai Non c'è, non c'è Non c'è осorlato Come da Come da Eppure Ja, mince No c'è 30 da però ho uno la volta e io sono andato no ho detto Gesù beh perché non me ne frega chi sta franca mia te venire ok chi sta franca chi sta di fronte eh vabbè non è assoluto non ti ho parlato ma non lo rispettavo non lo sto di fronte io no però non lo so no ma ne ho fatto Il fermoggio mi ha cazzato lì Ma sta contro di me Emanuele Si vai contro te vai, io lo visco Dai 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 Emanuele non mi va romperà Non ho fatto coluto il merco No, ci ho fatto il sensor per quella L'ho fatto il miglior, ci ho fatto il miglior Ma tu hai detto, prima ti ho fatto uno Anni dieci piccolate Ma quando? Uno massimo minutato? No, tre è minima Ma perché è disab... Le posture di merda Ma vedi la 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 Dai guarda Dai guarda Leva la Aspetta bene non si parla Ma vedi la Ma vedi la Ma vedi la Ma vedi la